Milano sta diventando veramente una capitale che guarda al cielo, con tutti questi palazzi e questa piazza che è veramente un aspetto meraviglioso, un incremento che vuol dire di un impegno costante verso il futuro per lasciare qualcosa alle nuove generazioni. È un impegno verso il futuro che si sta concretizzando con la particolarità che sono rispettati i tempi, sono rispettati i budget, sia nelle opere private come questa, sia nelle opere pubbliche. La spinta di Expo è importante, adesso il prossimo capitolo è fare una cosa simile anche sull'area Expo per lasciare al futuro qualche cosa che rimanga dopo Expo. Grazie, grazie mille, buona giornata, arrivederci.